La curva dell'epidemia si è definitivamente piegata e ora punta verso il basso. Lo ha annunciato questa mattina il direttore sanitario della TS in Subria, Giuseppe Catanoso, nell'ambito del consueto aggiornamento settimanale sull'andamento del contagio. Tutti gli indici sono in discesa, i nuovi positivi passano in sette giorni, da 1.223 ai 1.129 del periodo compreso tra il 9 e il 15 aprile, con un'incidenza ogni 100.000 abitanti che muta da 208 a 192,4 casi. Il dato meno positivo, anche se al di sotto della soglia critica di 250 positivi ogni 100.000 abitanti, è quello del territorio compreso tra Lomazzo e Fino Mornasco con 229 casi. È sceso ancora il valore dell'indice di replicazione diagnostica RDT, che si attesta al di sotto della soglia di attenzione. Cala anche l'età media dei contagiati, sempre compresa tra i 40 e i 50 anni, risultato della vaccinazione della popolazione più anziana. Prosegue intanto la campagna vaccinale. Ad oggi le dosi somministrate nel territorio della TS Insubria sono 282.394, 108.649 delle quali a Como. E per quanto riguarda le vaccinazioni a domicilio, a Como su 349 medici di base hanno aderito in 297 e ad oggi sul territorio della TS Insubria sono state vaccinate 9.887 persone sulle 12.500 indicate. Questo fine settimana il camper per la somministrazione a domicilio in zone impervie sarà a Valsolda, Valcavarnia, Valrezzo, Claino con Osseno e Porlezza. Lunedì sarà la volta di Veleso, Zelbio e Lezzeno. Lunedì sarà la volta di Veleso.